Sportivi e bentornati nel canale. Allora, adesso dobbiamo parlare un po' chiudo questo che non si vedeva bene. Allora, intanto, sapete che giocano le nazionali, addirittura giovedì ci sono le qualificazioni per gli europei, le squadre sono arrivate a terza e si fanno delle partite veramente importanti. Vi preannuncio che giovedì, anzi venerdì mattina, usciranno i pronostici per la prossima settimana, perché sarò impegnato, quindi avrete tempo, dieci giorni, di vedere le mie analisi e di seguire anche qualche commento che faccio sulle singole partite. Mi avete chiesto di fare dei commenti tattici sui nuovi allenatori delle squadre, ma non ha senso e vi spiego perché. Mancano dieci partite, dieci, un nove, adesso non mi ricordo quanto sono esattamente. Un tecnico come, per esempio, facciamo un esempio, l'avete già visto, Ballardini è entrato, ha cambiato subito, ha fatto 5-5-0, lo ha fatto prima mister Nicola, lo sta facendo il nuovo tecnico del Lecce, ha abbassato il baricentro di brutto, ha affoltito il centrocampo e faranno, se sei intelligente, fai così. La Lazio deve fare così, con le squadre forti deve fare un 4-5-1, che comunque lo faceva già Sardi, e quando gioca con le squadre che deve vincere, si sbilancia con gli esterni che stanno alti, quindi diventa un 3-5-2. Non c'è niente da inventare, quindi l'idea del mister Tudor, che comunque, ragazzi, non è un mister navigato Tudor, sono 3-4 anni che allena, non pensiate che sia arrivato chissà che, anche queste pretese di avere soldi, Tudor ha dimostrato tanto come altri allenatori che sono all'inizio, non è che lui ha delle capacità in più, è stato nel Juventus con Pirlo, ha lavorato a Zagabria, ha fatto bene con il Marsiglia, ha fatto bene, molto bene con il Veroro, ma da subentrato, cioè un anno intero lui, non lo ancora abbiamo visto, in Italia, e quindi la valutazione di Tudor che subentra non mi fa paura con la Lazio, mi preoccupa un po' della sua idea di calcio da quando inizia il campionato con la squadra che deve fare una preparazione, tutto, perché non conosco, non so come lavora, questo è un esempio, ma questo vale per tutti, prendete ad esempio Nicola, il mister Nicola ha fatto sempre bene da subentrato, quando è iniziato lui, 9 volte su 10 è stato esonerato, molti allenatori sono così, gli allenatori che subentrano e che fanno bene hanno la capacità come Ballardini di avere quella sintesi, di mettere subito la loro idea di calcio in base ai giocatori che hanno, punto e basta, però un conto fare questo, un conto dopo invece distribuire le forze in un campionato, ecco l'errore gravissimo che sta facendo la Salernitana a disonerare Liverani per tenere Inzaghi, Inzaghi non è sicuramente un attore, sì in Serie B forse farà un po' meglio sicuramente, però secondo me Liverani era perfetto, l'ha dimostrato con il Lecce, ha vinto un campionato, la grande e il gioco ti porta, Inzaghi non ha gioco, Inzaghi fa un 3-5-2 ancora più chiuso del suo fratello e punto e basta, anche lui vive, diciamo che è un piccolo Allegri, ha l'idea di calcio è chiaro, ha giocato grandi livelli, però non lo so, non mi dà mai l'idea che diventi un top allenatore, no? E anche diventare un top allenatore è in base ai giocatori che tu hai, però certi allenatori riescono a dare qualcosa in più e Liverani poteva dare qualcosa in più, però questa scelta adesso di tornare ancora uno, mandare via quell'altro, insomma l'ho trovato un po' ridicolo il tutto, eh? Faccio degli esempi. Chiuso questa parentesi, apriamo l'altra parentesi, quella della Locandina, ma prima parliamo di Juan Jesus con Acerbi, allora io alleno in Inghilterra, quando sono arrivato 10-12 anni fa, non parlavo una parola d'inglese, mi hanno messo in cucina, poi con i giovanili del West Ham, ma non avendo contratto mi hanno messo con il Letton, c'era Liverani come allenatore, ho iniziato con i piccolini per dopo affiancare la squadra, infatti in Turabest c'è ancora il mio nome se non sbaglio, dovrò andare a controllare e facevo praticamente, mettevo i cinesini, perché dovevo imparare l'inglese, ok? Ogni settore giovanile di una squadra professionistica ha 5 allenatori, quello che mette i cinesini, il quinto mette solo i cinesini e partecipa alle riunioni tecnici, il quarto mette i cinesini e ha 10 minuti di allenamento, gli viene dato un reparto, il terzo ha mezz'ora di allenamento, 20 minuti, ma non è mezz'ora, cioè era portato mezz'ora, su 5 allenamenti uno lo fa lui, ecco, tanto per intendersi, ok? E però non gli viene dato o l'attacco o la difesa, gli viene dato tutta la squadra per quella giornata, il secondo allena con il primo e allena forse anche di più, perché il primo è occupato, immaginate una cucina, no? L'head chef deve organizzare, deve fare la rota, questo e quell'altro, quindi è presente, ma non è presente. Il secondo, come se voi vedete le grandi squadre di serie A, molte volte l'allenatore arriva solamente per la parte tattica, non c'è, cioè è lì, parla, fa, ma perché ha già programmato durante la settimana con tutti i suoi assistenti cosa devono fare. Infatti se voi guardate la partita che l'Inter ha giocato contro chi era, adesso non mi sfugge, forse col Napoli stesso? No, credo che era contro l'Atletico, tu vedi che nel momento in cui c'è una pausa, ah, sì, con l'Atletico, durante i due tempi supplementari, vedi i giocatori che parlano, i difensori soprattutto, parlavano di tattica, ma non con il mister, con il secondo, perché lui lavora tantissimo sul campo, ok? Queste cose qua bisogna osservarle, perché se no dopo si dice sempre Allegri è qua, Allegri, no, gli attori sono così, hanno un loro staff tecnico, sono tutti a altissimo livello, se no vuol dire che se Allegri è stupido, tutti quelli che lavorano per Allegri sono stupidi, e invece sono super laureati, sono il top del top, cioè capite dove voglio arrivare? Poi, che lui fa quella cazzata di dire tu fai giornalista, io faccio annatore, quella veramente è una minchiata incredibile se la poteva tenere, ma questo non è un annatore, questo è il tuo carattere, se tu hai un brutto carattere e rispondi così è una tua problematica, no? Ok? Però ha vinto dei campionati, quindi cosa vogliamo dirgli? Diciamo che adesso magari non sta facendo bene, quindi viene esonerato, però resta un gran natura, perché con tutti i campionati che ha vinto, io sfido avere la possibilità di aver vinto tutti i campionati che ha vinto lui, ecco. E quindi esperienza ne ha, questo in sostanza, di tenere il gruppo. Però il discorso acerbi con... mi fa riflettere, perché quando sono arrivato qua, appunto vi dicevo, arrivavo da qui che praticamente il 50% dei giocatori non sono inglesi, forse anche 60, e molti sono inglesi di colore, ma non sono inglesi, sono inglesi naturalizzati nel tempo, no? E quindi ti trovi questi cinesi, questi ragazzi di colore, quella... e quindi mi ricordo che io ho detto una frase che non posso so dire qua, perché se no YouTube mi è... e un autore mi ha detto, guarda che devi stare attento quando dice così, perché qua c'è il black no matter, se era in questo caso un ragazzo di colore, ma anche nei confronti dei slavi qua e là, devi stare attento a parlare perché qua ti possono denunciare che la tua carriera finisce qua. Quindi il discorso acerbi è molto delicato, bisogna fare molto chiarezza su questa cosa qua, molto molto chiarezza, non è... poi voi mi direte, ma tanto che lui l'abbia detto o no, ma comunque lo pensa, e chissà quante sono le persone che lo pensano e non lo dicono, e su questo io vi do ragione, c'è qualcuno che me l'ha scritto, mi ha detto ma se tu ce l'hai in testa, e anche se non lo dici, che differenza c'è con quello che l'ha detto? Eh... sì, è veramente sottile il discorso. Sta di fatto che comunque c'è il rischio che venga punito un giocatore o una situazione come questa, per punire diciamolo in generale tutto il mondo del calcio per alcuni fatti che vengono, no? E questo è il grosso rischio, ma parto anche dal presupposto che un giocatore di 37 anni e Juan Jesus che è lì da tanti anni, sappiano... cioè Juan Jesus non va dall'arbitro a dirgli guarda che mi ha offeso... cioè non è un principiante, non è un ragazzino, chissà quante volte ha avuto delle offese anche di razzismo anche nei confronti di società dove lui ha giocato, poi con l'Inter lui ha giocato, voglio dire, non è che... cioè non è la prima volta, questo è il concetto, no? Quindi voglio dire, bisogna capire bene se quello che è successo, e quindi ecco che torniamo al discorso, bisogna fare tanta tanta chiarezza. Sta di fatto solo una cosa, che qui in Inghilterra se tu commetti una roba di questo tipo qua e non ci sono le prove, ma ci sono delle situazioni, prima si guarda il referto dell'arbitro e a parità di situazioni che vengono denunciate, se non c'è una prova, 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 viene dato più valore a chi ha fatto la denuncia, ok? Però gli fanno tutta una serie di domande e cercano di metterlo in difficoltà, se lo mettono in difficoltà salta tutto, altrimenti è più a vantaggio suo l'accusa. E un Jesus non ha fatto denuncia, ha fatto solo una denuncia verbale dicendo che a Cerbi ha detto delle cose che non sono vere e quindi adesso dobbiamo solo capire questa situazione. Ma vi prego, non parliamo di questa cosa perché secondo me non ha senso, non ha senso, deve essere punito, ma non è che il ragazzo adesso deve essere impiccato, ecco, cioè voglio dire, deve essere punito e forse se viene, ripeto ancora una volta, ha provato che lui ha detto delle cose che non doveva dire e quindi aspettiamo il referto dell'arbitro, sarebbe stato meglio che lui avesse detto, guardate, ho detto delle cose che non sono uscite dalla mia bocca, ma una situazione mi ha, può succedere, può succedere, è inutile dire, che dopo mi unite a dire che gli inglesi, ma gli inglesi sono i più razzisti di tutti, perché quando sono arrivato e mi ricordo mi hanno chiamato italiano di, ok? Italiano, non stazione, italians di, ok? O mafia, quelle cose là che io poi vengo dal nord che non c'entra neanche niente con tutti questi sconcetti qua. Quindi voglio dire, stiamo un po' anche con i piedi per terra perché quando si sente parlare di razzismo non è solo in base al colore della pelle, è anche il luogo dove tu risiedi, questo e quell'altro, insomma voglio dire, è un argomento molto ampio, complesso, che va affrontato nelle dovute sedi, quindi non è questa la dovuta sede. Questo video qua invece, con dovuta sede, è quella di Yannick Sinner, gran campione del tennis e dalle mie parti, proprio dalle mie parti, campione di sci, che ha deciso di mollare tutto, come, cioè, dalle mie parti per diventare un campione ce ne sono tanti, ma devi capire che vivi sulle montagne e devi trasferirti in una città per fare sport e non è facile. Sapete quanti anche i giocatori di calcio c'erano? Anch'io dal mio paesino per andare a giocare vicino a Montebelluna prendevo il treno, facevo di quelle robe veramente, oh, pffù, per andare poi a treviso calcio, era una roba, o dovevi stare in convinto, era una roba veramente incredibile, no? I sacrifici se ne fanno tantissimi, no? Quindi quelle persone il sacrificio dopo ce l'hanno nel DNA e lo portano in campo, Yannick Sinner è l'esempio di questo, per avere le cose le devi ottenere tu. Poi quando sei ricco sei bravo tu a gestirtelo, perché lui adesso è stra ricco tra i sponsor e tutti, però lo vedete anche nella foto e anche nel video che la nazionale italiana gioco calcio ha postato nel proprio sito, c'è lui che parla con Buffon, che dice quando ai tempi c'era luna rossa tutti guardavano luna rossa, adesso tu sei campione e tutti guardano tu, ma non è solo lui, io ho avuto modo di parlare qui con Berrettini, molto semplice ragazzo, anche Berrettini ragazzi, credetemi eh, e questo ti fa capire l'attaccamento a nazionale, perché adesso Sinner dovrà essere impegnato con la Coppa Davis e il fatto che lui sia andato a trovare la nazionale, perché si trova in America, deve capire quanto è importante questo apporto della nazionale, quanto è importante che noi seguiamo la nazionale, perché non ci siamo mancati troppo tempo, siamo campioni in carica, alcuni giocatori sono concentrati su questo, io sono straconvinto che i problemi della Juve nascono anche per questa cosa qui, che certi giocatori non vogliono farsi male, e mi riferisco a Chiesa, Vlaivic c'è anche lui, con la Serbia, vuole, e non sa se ci, cioè, ragazzi, l'Inter vincerà il campionato il prima possibile, perché molti giocatori sono impegnati agli europei, e molleranno, rischeranno, vi ricordate la Juve quando ha vinto lo Scudetto, aveva dieci punti di margine dall'Inter, e poi è finita con un punto solo, era quella di Sarri, e può darci che finisce così, perché vedo Milan molto macinare, molto molto macinare, il Milan sta macinando, ragazzi, chi mi viene a dire che Pioli deve essere generato, ragazzi, non ha capito niente di calcio, forse può essere generato perché non è una persona che dà pill, però ragazzi, questo sta mettendo, il Milan di quest'anno sembra il Milan del primo anno di Pioli, dopo che ha iniziato sempre a vincere, 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 ricordate, ha iniziato l'anno nuovo vincendo, 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 e poi ha vinto lo Scudetto, assomiglia moltissimo a quel Milan, attenzione, perché se quei tre a centro campo continuano a giocare così, ragazzi, il Milan è una squadra veramente, secondo me, la più dinamica che ci può essere, perché un Lock2Cheek, che io ho avuto il piacere di averlo qua, e una volta di aver fatto allenamento con lui, e forse c'era Tomori quell'anno là, non mi ricordo, era il tempo di Sarri comunque, Lock2Cheek, Renders, che ve l'ho detto fin dall'inizio, perché adesso ho capito come muoversi Renders, all'inizio era veramente naif, e chiaramente il rientro di Ben Asser, che è un giocatore importantissimo, questi tre messi insieme formano un triangolo che non ha nulla da invidiare a che sì è Tonali, ve lo posso garantire, assolutamente niente di niente di niente, anzi, dico la verità, a me piace tantissimo Tonali come è cresciuto, però dopo quello che è successo, questo fattaccio qua, devo dire la verità, secondo me ha perso tantissimo da Pille, perché sì, è vero che non hai messo niente di grave, ma il calcio scommesso è comunque fatto su se stesso, per i ricavi qua là, mi lascia sempre un po' di puzza, no? Però voglio dire, questi giocatori off2cheek, Renders non c'è niente di meno di, ripeto, Tonali quando gioca trequartista mi piace tantissimo, perché si buttava dentro gli spazi, l'ha fatto vedere l'ultimo anno di Milan in maniera molto propositiva, però devo dire la verità che questi tre qua, con Pulisic e Leao, ragazzi guarda la squadra veramente forte, forte, è inutile che vengo a sentire, non so se vincerà o meno il derby il 22 aprile, so che il 21 aprile quando hanno, però vi dico che il Milan è in forte crescita e non bisogna chiudersi gli occhi così, è in forte crescita, veramente in forte crescita, in tutti i reparti e se il mister ha coraggio di mettere Calabria in panchina e iniziare a giocare con i giocatori della primavera, perché Calabria è proprio il punto di domanda, secondo me Calabria è il jolly, deve stare in panchina e entrare perché lui può fare ricoprire più ruoli, non li fa bene, però li ricopre, perché ha fisicità, è tenace, no? Però dargli la fascia da capitano lo trovo un po' esagerato, questo vedremo se è il prossimo anno. Chiudo questo argomento appunto dicendo che la nazionale diventa la priorità per questi amichevoli qua. Le convocazioni hanno detto che probabilmente Retteghi sarà il nostro attaccante principale e ne sono contento, veramente, e sono contento, lui e Pellegrini si trovano a memoria, io ho sempre in memoria quel gol fatto all'Inghilterra con Pellegrini che dà quella palla perfetta, Retteghi fa il gol da un perfetto sconosciuto e là quello ha fatto una differenza incredibile, da là ho capito l'occhio di questo ragazzo qua e se vi ricordate Totti l'aveva proposto. Totti è un altro che ci vede lungo e ci vede lungo. Ok ragazzi, io ho fatto questa chiacchierata lunga, ripeto, parlare di razzismo, I am Jesus, queste cose qua, non lo trovo alquanto... cioè chi lo fa nei canali secondo me lo fa solo per avere una pubblicità, perché cosa posso dire? Che io non ero lì, non vedo il labiale, non ho sentito cosa hanno detto, sì sento l'intervista di uno e l'intervista e l'altro, ma come faccio a dare un parere se uno ragiona e uno no? Solo perché uno va dall'arbitro e gli dice che mi ha offeso, ma magari offeso gli ha detto qualcosa che è un'offesa... cioè quando io giocavo a calcio ragazzi, ma sapete quante offese ho avuto? Ragazzi, ma offese, ma offese eh? Offese anche da dove venivo, cosa facevo e che facevo? Andavo dall'arbitro e sì voglio dire... quindi voglio dire, bisogna stare attenti, va punito se viene approvata la cosa, però noi non siamo giudici e non possiamo giudicare niente finché non sappiamo cosa è successo. Quindi io vedere che fanno striscioni a favore di uno o striscioni a favore dell'altro lo trovo poco corretto, no? E quindi cerchiamo di non fare tanta pubblicità, no? In entrambi i casi vediamo la cosa giusta che è stata fatta e lì, secondo me, basta quello per punire un reato di questo tipo qua, sempre se è reato è, di dire al giocatore guarda che tu il nazionale non giochi perché fin tanto che non viene fatto a chiarezza... e questo ti toglie tanto, tanto eh? Tanto. Quindi io credo che se a Cerbi veramente abbia fatto qualcosa, una volta che è stato allontanato e si aspettano accertamenti, se avesse detto qualcosa veramente importante, credo che avrebbe fatto un'idea di scusandosi perché è l'unica cosa che puoi fare, perché altrimenti la verità viene fuori, perché non mi venite a raccontare che in uno stadio di 80.000 persone con 22 giocatori, è vero che non tutti impegnati a parlare qua, non c'è l'audio, con tutti i microfoni che si sente, non c'è un audio, un labiale dove si vede che parlano e tu puoi riconoscere che ha detto una cosa o nell'altra, non ci credo, a meno che ha messo la mano sulla bocca allora è diverso, ma sembra che la mano sulla bocca non ci fosse e io sono straconvinto che comunque l'arbitro ha comunque sentito le parole di Juan Jesus e nel referto ci sarà scritto cosa lui ha sentito dire, quindi aspettiamo quello e poi faremo delle valutazioni. Forza Italia, ci vediamo giovedì con i pronostici, mettete un like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!